In Francia le trasmissioni che hanno più successo in questo periodo sono le trasmissioni satiriche e credo che sia il caso un po' in tutta Europa perché c'è un tale discredito della politica dappertutto che la satira funziona benissimo. C'è una trasmissione che vi ride ogni volta a Chirac in un modo che non potete immaginare. Un personaggio ridicolo, un personaggio che mente, un personaggio un populista, una persona poco seria. Questo è quello che succede in Francia ogni sera.